Ciao amici, buongiorno, benvenuti in un nuovo video e benvenuti nella mia vita. Oggi sono con Chiara, abbiamo lavorato, stamattina sto andando via perché sono le 13 e... E 5. E 5, vabbè no, altri 10 minuti, ci rilassiamo, chiacchieriamo un attimo, stabiliamo le nostre giornate lavorative, poi volo a casa dal mio piccolino, rimanete con me perché vi faccio vedere, vi farò vedere che cosa succede poi quando torno a casa. Comunque ragazzi, scusate, questa è la nostra postazione per lavorare. Che pizze, che pizze! Che sono le pizze! L'acqua, il caffè, per me, io quando la confì sono saltata come una. La bicicletta! La bicicletta arriva lei con il vassoietto, adesso dai che, per lo prendere anche oggi, che mi sembra molto molto utile. Oddio, un po' un lavoro da asperanza, al senso che io sono coltivata, lei ogni tanto si sente che mi fa male la schiena, ma aghia, ah, quindi ogni tanto da fuori si sente, ah, aghia, ah, che dolore, sì. Un po' un viaggio da asperanza, non ci passi da tutto. Eccolo l'amore mio! Mamma è tornata! È tornata la tua mamma, è tornata la tua mamma. Come mai ti metti qui? Eh, perché lo sai, lo sai mamma che ti dà, sì? Ah, piccottino! Andiamo a fare la pipì, sì? Appena torno dal lavoro, sempre biscottino, e poi lo porto a fare la pipì, e giochiamo un pochino con la pallina, vero amore? Allora, 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 sono le 14.09, io mi sto facendo un tè, perché non mi va di mangiare. Io e Chiara abbiamo fatto una merenda a casa, erano le 11, 11.30, la pizzetta rossa, e stamattina, prima di andare da lei, mi sono fermata a prendere la nostra merenda, la pizzetta rossa. Non ho lasciate, ho preso quattro, due per noi e due per le bimbe, ovviamente, e quindi adesso non ho fame. Quindi mi faccio un bel tè caldo, mi rilasso, Pablo, non so se l'avete visto qualche clip, ma penso di non averlo inquadrato, si è fatto male alla brucia, perché per correre, prendere la palla, lui come al solito è molto irruento, poi è piccolino e delicato, quindi si vede che ha strusciato sul prato, e si è fatto un pochino male, gli ho disinfettato il musetto, perché c'è un po' di sangue, con un po' d'acqua ossigenata. Eh, amore, ne combini sempre una, tu, per farmi preoccupare, amore mio? E stiamo continuando a giocare a casa, vero, amore mio? Però io questa non gliela posso tirare come vuole lui, la tiro piano piano, poi lui la prende subito, non è soddisfatto, ovviamente, e mamma come te la tira? Ecco, piano piano. Lui vorrebbe lanci come un giocatore di rugby, ma non si può fare dentro casa, e poi oltretutto scivola anche per le zampe, non va bene, e quindi cerco di tirargliela però piano piano, così giochiamo. Lui è contento, vero, amore mio? Gli ho tirato fuori il cestino dei suoi giochi, così intanto a casa continuiamo a giocare. Io mi sto facendo, come vedete, il tè, e lo so, non è, le due non sono proprio l'orario che ho, non sono per fare il tè, però non mi andava nient'altro, mi andava una cosa calda, e mi sono legata i capelli, mi sali ciabattine, e fra poco, dopo che prendo il tè, ricomincio a lavorare, adesso mi rilasso un attimino insieme al mio piccolo. Ed ecco il mio teuccio, ci ho messo un po' di miele per addolcirlo, perché già stamattina mi ero fatta un tema, ci ho messo lo zucchero, cerchiamo di ridurre un pochino gli zuccheri. Ci piace sicuramente di più con lo zucchero, però non fa proprio benissimo. Poi ultimamente non sopporto tanto gli zuccheri, perché mi rimangono parecchio pesanti sullo stomaco, mi gonfiano, quindi preferisco usare il miele, sì, è meno buono, però va bene uguale. E ragazzi, io quando torno a casa, mi faccio un pranzetto, un po' di pasta, così al volo, e poi mi metto a giocare con Pablo. Solitamente questa è la nostra routine, la mia routine. Dopo aver giocato con lui, che sta qui sotto... Ma puoi aspettare un attimo che sto parlando con gli zii? Eh? Non ti si vede niente? Meno male. Sta aspettando di giocare con me. Lo faccio giocare, giochiamo insieme, ci mettiamo sul tappeto, oppure prendo i giochini, quelli suoi, interattivi, ci metto una crocchetta, un paio di crocchette, lo faccio giocare così, oppure, insomma, i nostri giochini, il cordino, piuttosto che la pallina, le ciambelline sue, così lui passa un po' di tempo, è contento, io sono contenta, perché passare del tempo con lui, per me, è sempre passare del tempo di qualità. Anche se poi ci mettiamo sul divano a farci le coccole, e lui si riposa, si addormenta su di me, però mi interessa, a parte portarlo fuori a giocare, ma quando rientriamo, anche, insomma, passarci del tempo sul tappeto a giocare con lui. E poi mi metto a sistemare casa, anche se casa è sistemata, è comunque ordinata, è pulita. Ragazzi, dentro casa c'è sempre qualcosa da fare. Io quando rientro, è vero che devo lavorare, devo fare le cose e tutto quanto, però il primo pensiero è quello di passare l'aspirapolvere, passare la moppina per terra, dare una lavata al volo, che poi, ultimamente, non riesco, sinceramente, a farlo tutti i giorni, a lavare tutti i giorni, però la moppina, ragazzi, la devo passare, perché Pablo, comunque, ha il pelo lungo e ne perde tanto. Non eccessivo, però, comunque, lo perde, a perderlo lo perde, e non mi va di camminare sui peli, sinceramente. E poi, insomma, vabbè, il letto lo faccio la mattina, ma c'è sempre qualcosa da fare, stamattina, prima di andare via, ho pulito il bagno, però devo andare a piegare, ad esempio, i panni che stanno dentro l'asciugatrice. Quindi, devo passare la moppina, devo piegare i panni, devo mettere quelli a stirare, se ce la faccio vorrei anche stirare quello che c'è da stirare. Magari mi dedico quel quarto d'ora, dopo quel quarto d'ora, ragazzi, io faccio così, mi metto il timer, ma non perché devo fare velocemente, semplicemente perché devo avere un tempo, e oltre quel tempo i panni poi li metto via e li riprendo magari in un altro giorno, il giorno successivo, dopo un paio di giorni. Perché, sinceramente, stare un'ora del mio tempo a stirare, perché quando non ho tempo e non mi ci posso mettere, non perché non mi va, ci mancherebbe, ma non glielo posso dedicare, mi metto un quarto d'ora, venti minuti di timer, mi stiro quello che mi devo stirare, in genere ce la faccio a stirare tutto, anche perché noi siamo in due, quindi non è che ho tutte queste grandi cose da stirare, però i panni che poi rimangono, gli indumenti che poi rimangono da stirare, li farò in un altro momento, anche perché sennò non se ne esce più. E penso che lo sappiamo tutti benissimo. Devo cercare di improntare la cena per questa sera. Ci farò un video, quindi seguite i prossimi video, però vi devo fare anche una domanda, ragazzi. Vorrevo fare una serie con tutte le ricette, consigliate da voi, ricette che si fanno nella vostra regione. Ricette semplici, ragazzi. Non mi fate fare cose impossibili, poi faccio le figure barbine, perché io non sono una cuoca, non so fare tante cose, quindi vi prego, ragazzi. Io vi chiedo di commentare sotto a questo video e di scrivere la ricetta della vostra regione che vi piace di più, che amate di più. Anche semplicemente il nome, così io me la vado a vedere su Google, senza che mi dite tutti i passaggi, sennò diventano commenti interminabili. Me la vado a vedere su Google. L'unica cosa che vi raccomando è, se voi a questa ricetta apportate delle vostre modifiche personali, di scrivermelo, perché io farò la ricetta proprio che fate voi. Quindi, faccio un esempio, un esempio, è un esempio. Io faccio la carbonara, io ti, Lea, ti propongo la carbonara, però io nella carbonara ci metto, invece che il pepe, ci metto, che ne so, la paprika, perché mi ci piace di più. Abberrante, però, provo a fare, provo a seguire il consiglio e la versione, la vostra versione personale. quindi magari scrivetemi il nome, così me la vado a vedere, però scrivetemi anche se, se, voi apportate a quella ricetta una particolare modifica. Le ricette saranno selezionate, non posso ovviamente farle tutte, però via via, poi magari con il tempo, amore mio, via via, poi con il tempo, cercherò, insomma, di farle tutte. E vi farò questa domanda, tutte le settimane, così posso. Voi intanto riproponete, la ricetta, commentate, che magari poi viene, viene selezionata. Però ragazzi, non mi fate fare cose impossibili, perché, non è cosa, non sono capace, e, non voglio fare figure barbine, magari se mi proponete, qualche cosa di un po' più particolare, di un po' più difficoltoso, di un po' più lungo, che vedevo di, ce proverò, però magari, è un, non è un programma di cucina, ovviamente, è anche per stare insieme, per intrattenervi, per ridere insieme, per farci una risata insieme, perché qui non è che stiamo parlando di, di chef stellati, non importa, anche per far conoscere, ecco, agli altri membri della community, delle ricette che magari non conoscevano, delle ricette particolari, dalle quali tutti noi, me compresa, possiamo prendere spunto, e far conoscere, anche con degli ingredienti particolari, e una ricetta particolare, la vostra regione, perché tutte le regioni d'Italia, tutte le città d'Italia, sono bellissime, e vanno valorizzate, anche attraverso le ricette, io spero, ragazzi, siate buoni, spero veramente, di rendere, onore, alla community, sicuramente, ma, alle vostre, alle vostre regioni, quindi scrivete nei commenti, quale ricetta, volete, che io, riproduca, siete clementi, vi prego, poi non vi dico, domani, cosa succederà, devo fare una cosa, importantissima per me, una cosa davvero, super, 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 speciale, sono emozionata, felice, perché ci tenevo, da morire, non potete neanche immaginare, cosa sia, la vedrete nei vlog, nei prossimi vlog, ma capirete, a che vlog mi riferisco, perché, mi vedrete, sprizzare gioia, da tutti i pori, mi vedrete molto emozionata, capirete subito, a che cosa, mi riferivo, in questo video, ed è una cosa, che, faremo, io, Mirko e Pablo, ma, principalmente, una cosa, per Pablo, già vi ho detto troppo, però, sono sicura che non ve lo immaginate minimamente, io ci tengo, ci tengo tantissimo, sono emozionata, e non vedo l'ora, che arrivi domani, ma non vedo l'ora di portarvi con me, e vi dico ragazzi, vi dico anche un'altra cosa, perché ci tengo, probabilmente, sì, un anno fa, diciamo qualche mese fa, una cosa del genere, avrei desiderato tenerla per me, vi dico la sincera verità, e non mi sarei sentita, di accendere la telecamera, di filmare, però, lo farò, perché, voi siete, voi siete voi, voi siete diventati voi, e meritate, con tutto il cuore, di essere presenti, quel giorno, di essere presenti, sì, in parte, di essere presenti, e di vedere, e di condividere con noi, questo momento, e questa gioia grandissima, io veramente ragazzi, sono emozionata, so felice, cioè, so tutto, non vedevo l'ora, e voglio condividere, questo momento con voi, per me, voi siete voi, e meritate, di stare con me, con noi, domani, e condividere questo momento, meraviglioso, quindi, non perdete i prossimi, facciamo i saluti, mamma, sì, facciamo i saluti, sì, ragazzi, vi ringrazio, per aver visto, questo video, fino alla fine, vi chiedo, di metterci, un like, e scrivervi, al nostro canale, se vi va, e di seguirci, sulla nostra pagina, Instagram, e sul TikTok, Lea, e Pablo, spero di avervi, tenuto compagnia, anche oggi, no ragazzi, io non ce la faccio più, e vi diamo, appuntamento, quando, quando mamma, al prossimo video, let's go, I wake up to a little bit of drool, on my pillow, feel like it's gonna be a bad day, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yeah damn ain't that great, I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid, I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket, I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay there, till I feel like I'm winning all,